ciao a tutti e cari e cari e benvenuti in un nuovo video vi parlerò di consigli per regali natalizi molto low cost che in qualche modo possono far contente le persone che corteggiano brand più costosi ma sono adatti a tutte le possibilità e a tutte le tasche ma prima di procedere al video sigla ciao a tutti benvenuti in un nuovo video come ben sapete si avvicina il natale dobbiamo fare dei regali all'ultimo minuto e non abbiamo sempre il portafoglio pieno in particolar modo io mi sento vicina alle persone che hanno problemi col lavoro e si trovano a dover fare dei pensieri dei parenti ai parenti o le persone care non avendo tutta questa disponibilità economica siccome negli anni essendo casalinga anch'io ho collezionato dei dupe ho pensato di farvi delle proposte per farvi fare dei regali natalizi con la massima resa poca spesa quindi video po per le feste ebbene sì e vi faccio vedere dei dupe iniziamo appunto dal dupe viso e ancora potete trovare negli store kiko la collezione lost in amalfi la collezione autunnale approfittate per l'appunto dei dei sconti che periodicamente kiko fa per accaparrarbera ma quello che vi consiglio è per l'appunto beckett peach è questo qua perché perché rappresenta il dupe perfetto per setosità e stendibilità di orgasm di nars è un blush illuminante a questo bellissimo effetto pescato nel viso non c'è bisogno di illuminante perché è un blush dall'effetto luminoso di suo e potete accontentare con il pack elegante che appunto kiko vi propone perché ha sempre dei pack curati anche se a volte ripetitivi potete accontentare chi ha sempre desiderato orgasmo di nars ma non se l'è mai potuto permettere e questo è un dupe valido lo potete trovare ancora in negozio io vi proporrò cose di cui possono mettere e di cui vi posso mettere il link dei siti di amazon e di tutto quello grazie al quale li potete reperire per quanto riguarda douglas io vi propongo un dupe economico perché come ben sapete tra i primer ciglia più blasonati io le ciglia sfigatissime e conosciuto il primer di dior tutti ne parlano è chiacchieratissimo ma chi se lo può permettere io di certo no quindi sono andata da douglas e ho scoperto che la proprio la linea in gamma permanente proprio firmata douglas è veramente accessibile da un punto di vista economico e quello che mi ha stupito è proprio il sensation al prime xl che mi è volumizing come vedete ho delle bellissime cia definite passo il mio mascara di elezione che è appunto e lascia princess di essence e io sono a posto il trucco delle ciglia è super super potenziato quasi quasi meglio dell'originale di or di or ti faccio un baffo andiamo a vedere da un punto di vista labbra un'alternativa che è la 06 che è un'alternativa a una tinta labbra molto conosciuta di fenty beauty cosa vi ricorda cosa vi ricorda io ci ho riflettuto e poi l'ho riconosciuta l'ho voluta comprare proprio perché ovviamente non mi potevo permettere anco fed di centi beauty le tinte di guai con sono state chiacchieratissime perché c'è chi ci si trova bene c'è chi ci ritrova male io ho un odio profondo per le tinte io ve lo devo dire con tutta la massima onestà io non vado d'accordo con le tinte ci litigo un rapporto di amore odio ma con la mascherina non si può mettere altro e devo dire che questo colore riprende perfettamente anco fed di centi beauty per chi non si può permettere 30 euro di tinta labbra avete 8 euro e 90 da war con war con inoltre fa l'occhiolino anche ai rossetti di mac e qui vi mostro due chicche pre proposti abbiamo la linea queen full lipstick e la linea mattificent ovvero i matt e gli amplified presi spiccicati tranne il pack che i pack solito di war con presi spiccicati dalle texture di mac andiamo a vedere i mac in matte in questione fa molto molto il verso è molto somigliante al famosissimo mer di mac è un bellissimo color malva cannella è un malva non troppo caldo non troppo freddo la texture è matt ma assolutamente vellutata come i matt di mac per il prezzo che hanno vero 8 euro e 90 ne valgono assolutamente la pena e qui abbiamo invece un cream full lipstick che riprende appunto gli amplify questo bellissimo nude vi dico subito il numero e lo 05 io li ho praticamente comprati tutti i cream full lipstick perché mi sono innamorata perché hanno veramente una lunga durata nonostante siano amplified quindi cremosi texture assolutamente idratante infatti arricchita come dice wicon con degli oli essenziali e per me che comincio ad avere una certa età ovvero 40 anni secchezza della bocca e diciamocelo pure sono in menopausa e sono i rossetti perfetti per me peccato che si debba indossare la mascherina perché l'indosserei tutti tutti i giorni quindi abbiamo due alternative economiche video può per le feste andiamo a vedere un'altra cosa la cosa che aspettate tutti ve l'ho voluta per riservare per ultime perché sono delle chicche a voi tutti piacciono le palette chi non ha mai sognato di avere una palette come un giocattolo con cui spaziare tra i colori ma non tutti si possono permettere quei 80 euro poi 125 delle palette più blasonate e anche qui vi propongo delle alternative economiche partiamo da i art make up i art make up ci propone la cioccolette rose gold che potete trovare su pink panda o su pina o su un notino e la rose gold guardate i colori non è altro che il dupe preciso della desert task di uda beauty che praticamente forse ancora non trovate più in giro però per chi era innamorata di questa ma non si l'è potuta permettere è un'ottima palette estiva e la migliore forse appunto concepita da i art revolution ed è una palette completa che spazia da toni più accessi a toni più neutri naturali toni malvati autunnali toni che riprendono l'estivo vi faccio vedere degli swatches guardate guardate la meraviglia di questi metallici cioè come non fare ad innamorarsi forse ho sbagliato ve li faccio vedere qui sono un burro ragazzi e ve lo posso testimoniare cioè guardate qui la bellezza di questi colori insomma questa è un'alternativa economica e il prezzo nei siti è 12 euro ma 12 euro li vale tutti ovviamente vi consiglio sempre di buttare il pennellino e di utilizzare il vostro professionale quello migliore che avete andiamo a prendere un'altra bellissima palette di revolution del marchio revolution london ed è la reloa dead velvet rose per chi è appassionato di anastasia beverly hills la reloa dead velvet rose è il dupe della soft glam guardate la bellezza di questi colori naturali vi sbuoccio qualche colore per farvi vedere come sono ben sfumabili e ben burrosi guardate 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 come scrivono io si commentano da soli cioè di che cosa vogliamo parlare è una palette che per 4,90 è validissima della consiglio della stra consiglio per fare un pensiero a una ragazza giovane a vostra figlia se non potete comprare ovviamente 50 euro di palette questa è una bellissima alternativa per 4 euro e 90 i matte vi faccio vedere come sono scriventi cioè giusto per farvi capire che sono delle ottime alternative cioè di cosa stiamo parlando è un ottimo di andiamo a vedere questa volta un dupe di una palette che ho tanto desiderato non è un dupe precisissimo ma è un un'alternativa economica ma nello stesso tempo molto valida a livello di concezione della texture degli ombretti di una palette più importante e mi sto riferendo alla venus xl 2 io l'ho sempre desiderata l'ho sempre voluta non me la potevo permettere non potevo comprarla sempre ecco qui la catrice ha concepito la sunshine hit me up 18 colori a shadow palette in neutral tones e questa palette ho avuto l'occasione di provarla grazie all'onora mocio del canale l'onora mocio e ve la propongo come alternativa della venus xl 2 se non ve la potete permettere la potete trovare tranquillamente su pink panda eccola qua nella sua bellezza guardate questo questo oro questi verdi bellissimi abbiamo il verde iconico della palette venus xl 2 che è un verde veramente metallizzato che è utilizzato da topper è assolutamente eccezionale o da punto luce sono bellissimi può spaziare non toni naturali abbiamo questo marroncino per intensificare insomma una palette per chi ama il verde ma nello stesso tempo per chi ama i toni naturali andiamo a vedere un'altra alternativa economica di uda io l'ho scoperta grazie al sito dove c'è grazie al canale dove c'è viola c'è paolo e martino parlava sempre di you can be you can be you can be alla fine non volendo comprare perché è un dubbio se comprare la new nude di uda beauty per un mio compleanno perché appunto io non compro palette tutto l'anno ma me le faccio regalare per occasioni particolari ho voluto comprarmi su aliexpress perché l'ho trovata ma la potete trovare tranquillamente su amazon e vi metterò il link sotto impressione la change ball pink violet la you can be ha coniato pure il marchio change ball guardate spiccicata uguale agli stessi marmorizzati stesse texture marmorizzate stessi matte ma vi faccio vedere la scrivenza cioè di cosa stiamo parlando ne vogliamo parlare poi vi faccio vedere la texture di questi marmorizzati è burrosissima i glitter vi dico la verità non mi stupisce più di tanto per quanto riguarda i glitter perché i glitter si sa vi faccio vedere appunto i swatch qui i glitter si sa questi glitter pressati che la uda ci aveva proposto hanno bisogno di fare di tagliare la captecrisi con il nostro correttore preferito o un gel appunto per glitter una colla per glitter però devo dire la verità questi hanno un'ottima base colore guardate qui la bellezza di questi glitter qui cioè si vede che io l'ho strausata ed è meravigliosa andiamo a vedere un altro dupe di una palette importante di da beauty uscita assolutamente da pochi anni circa due ed è la mercury retrograde quanto se ne è parlato c'è chi l'adora c'è chi dice uda che delusione io devo dire che i colori mi avevano subito attirata non sapevo ripeto quanto l'avrei sfruttata e ho cercato dei dupe alternativi la prima volta non è andata bene ma poi sono capitata su aliexpress ma potete trovarla tranquillamente su amazon mi sono trovata imbattuta e nel marchio beauty grazed anch'esso rivenduto su amazon che fa dei dupe veramente validi e sono capitata nella misterius di beauty grazed cioè ragazzi potete vedere che l'ho utilizzata i colori sono burrosissimi quasi cream to powder matte scriventissimi il prezzo comprese le spese di spedizione è 8 euro vis 70 euro di palette quindi di cosa vogliamo parlare abbiamo una buona qualità massima resa minima spesa vi faccio vedere qualche swatch ho riscontrato che questo bianco è il più simile a quello proposto da uda beauty perché questo perlato dorato che come punto luce è qualcosa di meraviglioso scriventissimo e non lo potete cogliere fino in fondo per le luci però io posso vedere che appunto è questo bianco con le perlescenze dorate vi faccio vedere questo bellissimo rame di cosa vogliamo parlare sono metallo fuso burro fuso cioè questa è un'alternativa valida ultimo dupe di uda beauty voi sapete cosa ho sempre pensato delle pastel le pastel di uda beauty forse sono le palette le obsession proposte da uda beauty che mi sono piaciute di meno e mi ero ripromessa di non comprarle e così ho fatto non li ho comprate perché le obsession ancora hanno un prezzo accessibile ma insomma non volevo comunque spendere 25 30 euro grazie a leonora mocio ho potuto provare le texture del marchio she glam rhapsody palette eyeshadow palette questa è definita il dupe della nostra cara pastel violet cioè di cosa stiamo parlando texture burrosissime ovviamente ragazzi non abbiamo degli intensi non è assolutamente una palette che va utilizzata da sola se volete un trucco a tutta palpebra col viola e poi volete un punto luce perfetta però comunque dovete sempre utilizzare un colore viola più intenso per appunto rendere il vostro trucco power ed ma per un trucco semplice o comunque per un trucco molto glow è assolutamente perfetta ma d'altronde anche la obsession palette di uda beauty non era nata come palette completa e io l'esperienza in quanto la topax originale è assolutamente non è una palette con dei burrosi è una palette monotematica ovvero ti dà i toni del topazio e dell'arancio se vuoi fare un trucco completo devi attingere dalla tonalità burro di un'altra palette andiamo a vedere invece un dupe ne sono stati veramente fatti tanti ma questo mi ha sorpreso e questo l'ho avuto grazie a l'ella del canale my world a cui mando un grosso bacione l'ho avuta per il mio compleanno come regalo non la ringrazierò mai abbastanza ma è la cherry di astra ovviamente è il dupe della naked cherry ovviamente vi dico a una performance che mi ha assolutamente stupito stupito perché sono setosi non fanno macchia considerato che appunto parliamo di una palette low cost i matt non fanno macchia sono abbastanza sfumabili per quanto riguarda la scrivenza sono stratificabili quindi se volete fare un bel pensiero guardate che bel pack stand astra allupim oppure da idea bellezza da tigota tutto quello che volete dove c'è uno stand astra anche casalinghi cinesi trovate questa e al prezzo economico appunto di queste tentation palette di astra potete avere la vostra naked cherry piccola spesa massima resa infine vi do un piccolo un altro piccolo consiglio per le feste per che non è un dupe ma per farvi l'idea di un trucco completo economico quindi se volete fare appunto un regalo per terminare il vostro look completo con una palette viso vi consiglio ancora la trovate l'obs la sofix palette la palette degli illuminanti questi illuminanti pur essendo economici perché la palette costa sui 6 7 euro cioè le cialde sono grandi avete una vasta scelta di illuminanti funzionano che è una bellezza cioè guardate la tipologia guardate la scrivenza vi faccio vedere appunto l'effetto cioè vi faccio vedere l'effetto appunto sulla pelle luminoso guardate qui sono effetto bagnato sfumati bene mi raccomando sono un po polverosi scaricate il pennello ma funzionano da dio è una palette che io consiglio di cui non mi libero mai perché a volte se non so scegliere un illuminante vado in questa e trovo illuminanti per tutti i gusti abbiamo verde abbiamo rosato abbiamo lilla abbiamo due tonalità che possono funzionare da topper per i brush abbiamo una gamma di dorati palette completa prezzo 7 euro e avete fatto un bel regalo di compleanno questa ovviamente ve lo dico potete trovarla sul sito di she glam sul sito di she in nella sezione makeup she glam quindi se volete fare questo regalo considerate che arriva in sette giorni otto giorni quando ci mette poco e niente con questo video video pop per le feste e tutto spero di avervi dato qualche consiglio utile divertente insomma qualche idea per fare dei pensierini economici perché è importante non tanto il valore economico dell'oggetto quanto il pensiero della persona che te l'ha fatto che ha intuito cosa ti piaceva in qualche modo ha trovato anche un'alternativa per poter realizzare i tuoi sogni quindi è bello anche questo e spero se ho potuto darvi appunto un un'ispirazione per qualche pensiero che il video vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto like iscrivetevi al mio canale mettete la campanella per essere informate su tutte le uscite dei miei video e non dimenticate buone feste e non dimenticate di starmi bene